Una ricerca condotta dal laboratorio di neurofarmacologia dell'IRCS Neuromed di Pozzilli, pubblicata sulla rivista Scientific Reports, segna un primo passo avanti nel trattamento e nella cura di una serie di patologie che intaccano la coordinazione, pregiudicando o limitando il movimento. Lo studio, condotto in collaborazione con l'Università di Tokyo, l'Università Sapienza di Roma e il CNR, ha mostrato come nelle cellule di Purchini, un tipo di neuroni presenti nel cervelletto, si verifichi un avvicendamento tra due tipi di recettori, entrambi appartenenti alla categoria dei recettori metabotropici per il glutammato MGLU. I recettori sono molecole presenti sulla superficie delle cellule nervose, capaci di ricevere segnali chimici trasmessi dagli altri neuroni. Attraverso esperimenti su modelli animali si è visto che nelle primissime fasi dopo la nascita le cellule del Purchini presentano sulla loro membrana una predominanza del recettore di tipo 5. Successivamente il 5 declina, mentre viene espresso in modo massiccio il tipo 1. Proprio su questo cambio della guardia tra i due ricettori, lo studio condotto dai ricercatori del Neuromed ha dimostrato che durante le prime fasi di sviluppo il ricettore di tipo 1 invia un messaggio alla cellula provocando la soppressione del 5. Quindi le due molecole sono interdipendenti, tanto è vero che bloccando l'espressione dell'MGLU1 il tipo 5 può riapparire. Il ricettore MGLU1, dice Serena Notar Tomaso, primo autore dell'articolo scientifico, è fondamentale nei meccanismi di base della programmazione dei movimenti ed è coinvolto in diverse patologie. Una sua diminuzione nelle cellule del Purchini viene ad esempio osservata nelle patologie genetiche del cervelletto e nella sclerosi multipla. Naturalmente, commenta Ferdinando Nicoletti, responsabile del laboratorio di neurofarmacologia della Neuromed, professore ordinario di farmacologia dell'Università La Sapienza di Roma, questa è una ricerca di base ma apre le porti a tutta una serie di interrogativi che possono essere di interesse medico. Ricordiamoci che nelle patologie genetiche del cervelletto non esistono terapie. Chiarire gli aspetti dello sviluppo di questo organo potrebbe quindi essere un passo molto importante.